Una piazza con mille colori, con molte culture, e ti dirò che... La mobilizzazione di oggi nasce da un'assemblea straordinaria che abbiamo fatto verso la metà di gennaio, e sotto l'urgenza dello sgombaro del cara di Castelnuovo di Porto. Da lì abbiamo registrato la necessità come associazione di organizzarci e di fare qualcosa, per cui abbiamo proclamato una mobilizzazione che sta avendo varie forme, la mobilizzazione di oggi in piazza è quella più concreta e è la prima volta come associazione che stiamo fuori. Noi siamo una scuola che normalmente facciamo la nostra attività dentro la scuola, per una volta volevamo prenderci la città e cercare una cosa importantissima che a Roma manca, di fare una rete, una rete cittadina, perché ci sono tantissime associazioni, tantissime scuole, tantissime realtà, le comunità che lavorano con i migranti e che lavorano tantissime, e quindi siamo molto slegati. Roma è un territorio che è molto ampio e quindi siamo slegati. L'importanza di questa giornata è un primo punto per iniziare a fare una rete. Oggi è il momento in cui esondiamo nella piazza, che poi è la nostra piazza, dove i nostri bambini giocano e dove ci incontriamo e vogliamo continuare a farlo nei prossimi giorni. Non è un evento spot, ma è una continuità tra quello che abbiamo fatto e quello che faremo anche domani. Lanceremo, ci saranno altri momenti di approfondimento, c'è una campagna di corso, aiutiamoli a casa nostra che sostegniamo, insieme col primo municipio. Ci sono le raccolte di storie di bambini e di famiglie che stiamo facendo insieme a tanti genitori volontari che ci aiutano. Ma soprattutto c'è l'attività veramente di ogni giorno in cui abbiamo aperta la ludoteca, a giocare bambini gratuitamente in tutto il quartiere, abbiamo dopo scuola per aiutare i compiti, abbiamo un cortile aperto in cui bambini e adolescenti possono giocare liberamente sotto l'occhio vigile di alcuni adulti. Grazie a tutti i nostri amici.